L'intenzione nostra è quella di sollecitare un attimino anche la vostra attenzione nei confronti di un discorso di questo genere per poter comunque cercare di ottenere delle soluzioni dove mettere in collegamento questi tratti di criticità di piste ciclavi. È stato un progetto veramente fantastico perché in 14 giorni abbiamo avuto modo di incontrare diverse realtà, diverse situazioni, diversi progetti cicloturistici già comunque ormai formati.